a cura della redazione giornalistica Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Chiariamo una cosa, se le autostrade A24 e A25 fossero pericolose non sarebbero aperte. C'è in gioco la responsabilità del concessionario e del governo che vigila. C'è un costante monitoraggio anche straordinario vista la sismicità dell'aria, in particolare su tutti i viadotti. Lo ha detto Mauro Fabris, che è il vicepresidente della strada dei parchi, la SPA che gestisce, le A24 e le A25 di Lazio e Abruzzo, sullo stato delle due arterie al centro di un braccio di ferro tra la concessionaria e il Ministero delle Infrastrutture, sulla fornitura dei fondi necessari per mettere in sicurezza i tratti strategici in caso di calamità naturali. L'intervento si è fermato a metà per lo stop ai fondi che appunto è stato anche al centro di polemiche perché in pratica appunto si è temuto proprio per la sicurezza da parte dei cittadini e poi ricorderete c'è l'onnosa polemica che riguarda l'aumento dei pedaggi nella zona. L'Orsa Peppina torna a far visita ai pollai della zona, alcune notti fa non era sola ma in compagnia dei suoi tre cuccioli quando si è fermata in un pollaio tra Pettorano e Sulmone, località a case Macilli di proprietà di un ex insegnante d'italiano in pensione, uccidendo quattro polli e cinque coniglie. Sul posto i veterinari della ASLE, i carabinieri che hanno eseguito i necessari rilievi dai quali è emerso che il raid nel pollaio era opera appunto dell'Orsa. Siamo fortemente preoccupati da queste nuove incursioni dell'Orsa Peppina che stavolta non è più sola ma con i suoi cuccioli, afferma il portavoce del comitato dei cittadini residenti nella zona di Valle Larga, Domenico Ventresca. Sono cinque anni che aspettiamo, dice Ventresca, misure da parte dell'ente parco contro queste continue incursioni dell'Orsa pericolose per i residenti e per l'animale stesso ma appunto ancora non si è verificata nessuna presa di posizione, nessun atto ufficiale. Intanto per quanto riguarda il terremoto in Molise si registra una dichiarazione del ministro degli interni Matteo Salvini, qualsiasi cosa servisse ci sono e ci siamo, ha detto Salvini in un'intervista telefonica all'emittente Telemolise parlando dell'emergenza successiva alle scosse di terremoto che continuano a interessare l'area del medio e basso Molise. Stiamo dando indicazioni tramite le prefetture, ha giunto di verificare tutte le strutture che vanno controllate, se serviranno interventi economici. Ovviamente il governo è pronto a fare la sua parte per questo sisma che ricordiamo ha riguardato anche il basso Abruzzo e tra l'altro c'è la notizia appunto proprio su questo che arriva dall'Aquila, un movimento laterale tra le microplacche appenniniche adriatiche che può ricaricare le molle e strutture superficiali e quindi andare contro il tempo anche a sollecitare le faglie vicine meglio conosciute, vale a dire quelle delle aree e regioni nimitrofe. E' l'idea che il professor Antonio Moretti, geologo dell'Università dell'Aquila, si è fatto su terremoti che stanno interessando proprio il Molise ma anche l'Abruzzo. Si dice preoccupato perché in queste scosse collocano in una specie di buco sismico tra la dorsale appenninica un'area a rischio di scosse ancora più forti. Le faglie interessate non sono confinate nella crosta superiore come quelle appenniniche, spiega ancora le professori all'Ansa, ma riguardano, dice, tutta la litosfera e sono legate movimenti del mantello difficili da prevedere perché non abbiamo un'esperienza diretta di terremoti storici. In una delle mappe di pericolosità sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il professore Moretti indica una zona che dall'Appennino si protende verso est fino al Gargano, una struttura, dice, trascorrente, cioè a scorrimento trasversale, che in passato ha dato luogo a notevoli scosse, tra cui il terremoto maremoto della Capitanata del 30 luglio 1627. Le scosse attuali, dice, sono più all'interno rispetto al 1627, ma sulla stessa struttura venga o meno un terremoto nell'area del prossimo futuro, la sostanza non cambia, non siamo preparati. Se i terremoti del 1915 nella Marsica o del 1783 in Calabria o del 1456 sull'Appennino avvenissero oggi coinvolgerebbero un'area urbanizzata con milioni di persone e quindi ci sarebbero da temere, dice il professore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, conseguenze molto serie. E intanto a Sulmona, a causa di un temporale registrata paura per un grosso albero spezzato in due da un fulmine, è caduto su strada e marcia a piede in pieno centro è accaduto nel primo pomeriggio durante un forte temporale in piazza Capograssi l'albero adornava l'aiuola dedicata appunto al giurista Peligno Giuseppe Capograssi nessun danno a persone o cose, ma in tanti hanno telefonato ai vigili del fuoco per segnalare l'accaduto e altre situazioni di pericolo collegate all'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città. Sul posto anche la polizia l'albero si trova all'inizio del ponte Capograssi che alcuni giorni fa era stato interdetto alla sosta come già avvenuto nel 2016 dopo il terremoto di Amatrice quando i giunti presentarono preoccupanti movimenti nessun allarme comunque sulla condizione di vita del ponte progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi come per la struttura crollata a Genova il comune di Sulmona ha infatti annunciato che l'infrastruttura sarà sottoposta a costante osservazione e oggi è lunedì 20 agosto e la chiesa celebra la memoria di San Bernardo Abate e dottore della chiesa il meteo dice che oggi su Pescara e provincia si prevede cielo da nuvoloso molto nuvoloso durante il giorno e poco nuvoloso in serata con temperature da 24 a 30 gradi sulla costa da 23 a 29 gradi nelle zone interne 20 da deboli a moderati il mare è previsto quasi calmo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne a voi tutti grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Grazie per aver guardato il video Uruguai Grazie a tutti Grazie a tutti.